Ma ragazzi, che cosa sta succedendo? Dove corrono? Ma fate domande a dir ragazzini? Sì, sono passati! Ma ti vedo che eravamo in ritardo! Ma dove scaffate? Ma ragazzi, corrono tutti qui, ma che succede? Aspettate! Aspettate! Dovete andare a trovare qualche avanti, è qua vicino, va bene? Ma sono qualcuno? Mi spiega che cosa sta succedendo? Facciamo una gara di orientini, ci deve essere un'antenna lì! Adesso scappa un'altra volta, aspettate! Mi sa che l'ho persi di nuovo! Non ti fate perdere tempo! Ma perché correte tanto? È una gara di orientamento! Come funziona? Dobbiamo cercare dei punti del bosco! Chi vince? Mi speriamo di vincere noi, ma abbiamo i ragazzini che sono in testa! E allora forza, di corsa! Andiamo! Insomma ragazzi, in questo sport, primo non bisogna perdersi, poi si timbra alle lanterne per provare che si è passati per il percorso giusto, e poi via, si vola verso il traguardo! Ultima! Ma ce l'ho fatta anch'io! Mas questo è un bel profilo In questo futuro! Vamos! Buon giorno! Allora! Allora!